Buonasera a tutti, eccoci arrivati come sempre al classico webinar dedicato alla price action mensile in compagnia di IG. Un saluto a tutti, buonasera, qui è Arduino Schenato, vedo già un po' di gente in chat, molto bene, potete scrivere. Ok, buonasera Carlo, Barbara, Fabio, Cristian, Vincenzo, Alessandro, Davide, Roberto, vedo alcuni Platinum tra l'altro, mi fa molto piacere, non fa mai male. Vediamo un attimo l'audio che sia messo bene, va che così, mi sentite bene vero ragazzi? Perfetto, molto bene, molto bene, molto bene, allora prima di iniziare diciamo a parlare di questo tema, oggi parleremo di set and forget come approccio operativo, quindi setta e dimentica come approccio operativo proprio, direi, proprio come stile di trading. Da tanti anni che ne parlo di questo aspetto, ho addirittura fatto anche altri video, forse anche altri webinar in tutti questi anni, anche in compagnia degli amici di IG. Probabilmente trovate qualcosa sia nel mio canale che in quello di IG, anzi, vi invito a iscrivervi a entrambi se non l'avete fatto, canali YouTube dove c'è tantissimo materiale didattico e tantissime cose su cui si può lavorare, studiare, imparare. Allora, io questa sera volevo iniziare, visto che state arrivando tra l'altro proprio adesso tutti in questi ultimi minuti, volevo iniziare con il chiedervi una cosa, visto che oggi parlerò di set and forget come approccio operativo, guarderemo anche un po' il mio stile di trading, un qualcosa che mi contraddistingue da 15 anni, ragazzi, io nel 2021 sarà il sedicesimo anno che sono sui mercati nel modo in cui sono oggi, poi con tutte le evoluzioni del caso, ma facendo price action praticamente, circa. Quindi voglio dire, oggi voglio andare nell'essenza più radicale di questo stile, di questo approccio, e quindi trasmettervi a voi questo tipo di essenza, che è questo set and forget end of day trading. E quindi con voi vorrei oggi, prima di partire diciamo in quarta, chiedervi se avete già sentito parlare, cioè ovviamente qui ho tantissimi utenti che sono iscritti alla scuola Platinum, che per chi non lo sapesse è nel mio sito, eccolo qua, iarforex, è la scuola che trovate qui nel menu Platinum, che è praticamente una scuola proprio, dove facciamo trading ogni giorno, dove facciamo analisi, eccetera, e qua ce n'è qualcuno, vedo Roberto, che dice ormai la puoi definire una filosofia di trading qui in chat, giusto? È proprio una filosofia di vita più che altro, perché questo set and forget, questo keep it simple, insomma mi accompagna un po' in tante sfere, ovviamente nel trading è assolutamente lì dove è nato tutto, e però sai, come dico sempre, chi è trader, cioè chi fa trading e lo fa con passione, lo fa per professione ormai, lo fa per vivere, perché la sua vita, diciamo che è proprio un modo di essere, essere trader, che non è solo fare trading, essere trader. Ma detto questo, di cui oggi non è che andiamo a approfondire questo tema, oggi approfondiamo appunto questo approccio set and forget e vorrei sapere da voi chi magari è molto all'inizio, chi ha sentito poco parlare di me, del mio approccio, e comunque di questo modo di guardare il mercato in set and forget, quindi volevo, tra virgolette, per alzata di mano, quindi avete la chat, nella quale potete scrivermi, e io vedo, gli altri non vedono, ma vi leggo, quindi non preoccupatevi, così da capire anche chi ho di fronte questa sera, e oltre ai vari platinum che vedo, che quindi conoscono molto bene tutta quella che è la mia operatività, il mio approccio, anche chi è, diciamo un pochino più all'inizio, comunque sta iniziando un po' a vedere il mio approccio, non solo all'inizio del trading, anche magari all'inizio del mio approccio, perché magari ci sono persone che hanno approcciato il trading in altri modi, magari da qualche tempo, e magari invece il mio non l'hanno mai approfondito. Ecco, volevo così capire, visto che tra l'altro il periodo è un periodo purtroppo di lockdown, di situazioni, soprattutto in molte parti d'Italia, un po' così, che ci rende più a casa che in giro, io in realtà facendo trading, sapete che, e facendo formazione nel trading anche, bene o male, non sono mai stato un grande girovago, per lavorare anche, praticamente sono sempre stato a casa, diciamo, però oggi è ancora di più, no, chi fa altri lavori, magari li fa da casa, eccetera, quindi ha più tempo anche per leggere il trading, per guardare il trading, quindi siete molti nuovi in questi ultimi mesi, e quindi volevo capire anche qui, insomma, come siamo messi. Oh, bene, vedo che Carlo, per esempio, mi dice che ha iniziato da poco, Andrea, che mi dice che sta iniziando da poco, Fabio, che ha acquistato i miei ebook, li sta studiando, molto bene, i miei ebook che sono poi li trovate qui nella parte ebook, il primo è stato scritto tra il 2009 e il 2010, quindi sono datati ma ancora oggi parlano della stessa cosa. Poi vedo Salvatore che dice, ha sentito parlare di te, ma non conosco il tuo approccio, molto bene Salvatore, partendo da oggi da qui, secondo me ti farei una grande idea. Gianmarco dice, è la prima volta che partecipo a un tuo webinar, tuttavia sono nel mondo del trading già da un annetto e conosco grandi linee, set and forget, va bene, va bene. Andrea dice, due mesi, Diego dice che non mi sente tanto bene, al massimo se non mi senti molto bene, prova a uscire e rientrare, Diego. Fabio dice che segue i miei webinar, non ho mai sentito questo approccio, dice Cristian. Platino da tre giorni, Luca, da poco Salvatore, non conosco l'approccio Michele. Perfetto, da un annetto nel trading, dice Andrea, ma nuovo per l'approccio. Ho molti nuovi, allora mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, quindi cade a fagiolo, perché questo webinar l'avevo settato in realtà un anno fa, ormai con i G, però cade a fagiolo anche come come prospettiva di timing, diciamo. Quindi, molto molto bene. Va bene, allora, intanto allora dico per tutti i nuovi, che se vogliono approfondire poi tutte le cose, vi darò anche la mail dopo, questo è il sito di riferimento, il canale YouTube, basta cercare su YouTube Arduino Schenato, oppure andate su questo sito, cliccate qui YouTube e andate direttamente sul canale YouTube, dove c'è tantissimo materiale free, gratuito, tantissima trasmissione di un messaggio del tipo di trading che faccio, ok? Allora, parto da qui. Oggi, lo dico per i nuovi soprattutto, non andremo troppo sull'operativo da un punto di vista proprio di strategie e cose di questo tipo, ma parleremo più di approccio, del cappello, del modo con cui faccio trading, e diciamo che in linea di massima parto da un concetto. Il set and forget è un modo di fare trading che prevede, almeno per quanto mi riguarda, lo studio dei grafici, del prezzo dei grafici, attraverso quindi un, come potete vedere, un, come dire, uno stile che prevede nel proprio trading solamente lo studio delle dinamiche, dei prezzi più vere. Quindi il mio approccio, set and forget, non contempla nessun indicatore, oscillatore, volumi, chi più ne ha più ne metta, ok? Quindi tutto quello che è esterno a quello che mi dice un grafico, dove vedo la domanda e l'offerta, per me non va bene, ok? Quindi non lo utilizzo. E quindi per fare questo, io devo ovviamente dirvi a tutti che per fare questo tipo di trading, set and forget, bisogna per forza, è necessario, utilizzare dei time frame operativi ampi, grandi, ok? Dopo capirete anche il motivo. Il set and forget è questo, quindi io ho bisogno esclusivamente di time frame grandi. Quali sono i time frame grandi che vengono utilizzati principalmente nella price action, diciamo che sono tendenzialmente il settimanale giornaliero, cioè quello che vedete qui di fronte al mio monitor. Il grafico di euro-dollaro, questo è il grafico dei turbo di euro-dollaro, che vi mostra esclusivamente il settimanale giornaliero, quindi alla mia sinistra settimanale e alla mia destra giornaliero. è molto importante questa cosa. In realtà, come voi sapete, chi mi conosce da tempo, io non amo parlare di time frame nell'ottica di dire devo seguire un time frame, diciamo, perché se voi andate a, come dire, andate a approfondire un po' la cosa, il time frame, soprattutto se è sotto il daily, sono time frame, che sono, diciamo, delle invenzioni dell'uomo per creare ordine nel disordine. Ok? Quindi il time frame più vero è quello che prevede, diciamo, una chiusura di quella sessione. E quindi ecco perché io parto dal giornaliero al settimanale, al mensile, anche se giornaliero settimanale li reputo i migliori, proprio da questo punto di vista, perché c'è una sessione che parte, è una sessione che chiude. Seppur nel Forex noi non abbiamo in realtà una sessione che apre e che chiude, perché sappiamo che il mercato delle valute è aperto 24 ore al giorno, però in realtà abbiamo un inizio che è la sessione asiatica, quindi da circa mezzanotte, va a creare, in Europa, va a fare tutta la sessione asiatica, fino alle ore 8 della mattina, poi parte la sessione europea, sto parlando della borsa azionaria, poi parte la parte americana nel primo pomeriggio, fino a concludersi intorno alle 10 di la sera, poi la sessione asiatica riapre, eccetera. Quindi c'è un ciclo, come si può dire, ok? Che si chiude, una liquidità, che ovviamente sull'azionario va, ma sapete che le valute sono un mercato basico, da cui parte tutto, e quindi c'è una sessione che chiude, come la sessione settimanale, no? Se voi ci pensate, il mercato apre, il Forex per esempio, la domenica sera alle 11 della sera, e richiude il venerdì alle 11 o le 23. E quindi c'è una sessione che chiude. Quindi il mercato per me è questo. Quindi se io devo avere un approccio set and focchette, che cosa significa set and focchette? Adesso lo vedremo. Setta e dimentica, in italiano, setta e dimentica, io ho bisogno del migliore dato di prezzo del mercato. Io ho bisogno del migliore data feed, del flusso di prezzo che mi arriva dal broker. Io ho bisogno del migliore. E per vedere la migliore fotografia del prezzo dell'ultimo periodo, non posso guardare un grafico a 5 minuti. Non posso guardare un grafico a un'ora. Io devo per forza guardare un grafico settimanale e daily. Perché è lì che vedo il flusso migliore in quel momento. Quindi estraniamoci velocemente da quello che è il time frame. Se io devo vedere il prezzo attuale in questo momento, perché il prezzo attuale di questo momento non mente, è la verità, come il passato. Quindi oggi l'euro dollaro in questo preciso istante, 18,13, quota 1,18,16 in questo momento. E questa è la verità. Ok? Se io devo operare basandomi sui dati che mi dice il mercato, devo operare sui migliori dati che mi dice il mercato, no? E i migliori dati, gli dati più accurati, sono quelli che mi derivano da un time frame più grande, weekly e poi daily, per vedere nel breve. Ed ecco che quindi, tutta l'operatività che si basa esclusivamente sul rapporto di domanda e offerta, che mi viene detto dai grafici nudi, ecco perché anche il mio metodo si chiama price action naked, ok? Price action nuda, che ho portato io in Italia nel lontano 2009-2010, ecco che si ribalta in un set and forget trading, cioè utilizzare queste informazioni grafiche che derivano da time frame ampi, perché per me il time frame tra virgolette non dovrebbe quasi esistere, cioè io voglio il migliore dato, il migliore dato mi viene dato dal time frame grande, perché è il dato più accurato, mi permette quindi di avere un approccio alla mia posizione che io vado a chiamare set and forget. È un'introduzione non facilissima da fare, ma era quello che volevo farvi capire, soprattutto per chi non ha mai sentito parlare di questo approccio. E quindi, in questo caso specifico, io vado a utilizzare questi grafici, perché ne ho dei, e questo modo di approcciare il mercato, perché in questo modo ho due tipi di benefici. Ho dei benefici a livello psicologico, comportamentale, e dei benefici a livello più operativo, tecnico. Dopo vedremo degli esempi sul grafico, ma prima vi prendo delle slide che ho preparato. Vediamo se si aprono. Eccolo qua. Molto semplici. Non amo le slide, lo sapete, chi mi conosce lo sa, però per farvi un attimo capire un po' meglio la situazione, ho voluto fare queste due slide molto molto veloci e semplici. Allora, benefici comportamentali. Quali sono? Allora, il primo beneficio comportamentale. Ovvio che qui adesso io sono di fronte a delle persone che magari fanno trading da pochi tempo, come ho sentito prima. Due mesi, qualche tempo, molto poco. Ma forse anche un anno è poco. No? Cioè, stiamo parlando di niente. Voi pensate che per fare a volte un certo tipo di professione, dobbiamo fare tutte le scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, e poi magari si fa all'università e poi magari si va a braccetto con qualche professionista per imparare quel lavoro. Pensate un po', no? Tutto quel percorso. Quindi, anche il trading, dobbiamo dargli lo stesso peso, è una professione bellissima, io la faccio da tanto tempo, ma dobbiamo dedicare tempo e non pensare che sia tutto facile e che sia tutto così intuitivo e apro il conto e clicco e faccio sicuramente i soldi. No, dobbiamo studiare prima, imparare, acquisire competenze, essere umili e capire che qui è sempre crescita. Io stesso, è da tanti anni che lo faccio e ogni giorno, ogni anno imparo. Però mi guardo indietro e vedo sempre una crescita. Perché ho studiato, ho cercato di migliorare nei momenti no e nei momenti migliori, ok? Quindi l'importante è sempre questo. E quali sono i benefici comportamentali quindi del metodo set and forget? Allora, dicevamo, comportamentali e tecnici e operativi. Primo beneficio comportamentale che ho inserito in questa slide è la riduzione di stress e la riduzione di azioni emotive incontrollate. Lo so che qui c'è qualcuno che lo fa da poco, ma cercate di fidarmi di me. Se inizierete a fare trading in un certo modo, potrebbe capitarvi di avere una certa dose di stress che accumulate e quindi di agire, di avere dei comportamenti che non sono razionali ma che sono più emotivi. Ecco che il set and forget, quindi il settare la posizione, il settare il trade, poi vi faccio vedere degli esempi e dimenticarvelo è la via. Ovviamente necessitiamo di consapevolezza che si acquisisce con uno studio di se stessi, con lo studio del metodo e con l'esperienza. Quindi, set and forget, mi dice Andrea, trading di posizione? No! Ovvero, per me tutto può essere trading di posizione. Di base, tra virgolette, potrei anche dire che chi fa un trading intraday che io non faccio, ok Andrea? Io non faccio trading intraday, non sono un trader intraday, ma chi fa trading intraday, quindi non sto parlando di scalping, sto parlando di intraday, una o due posizioni al giorno fatte in un certo modo, diciamo che chi guadagna molto probabilmente ha un approccio set and forget, ma è ovvio che l'approccio set and forget migliore è quello che tiene la posizione almeno qualche giorno. questo perché il tenere la posizione qualche giorno ti fa entrare proprio nel concetto di set and forget che è un concetto che si avvicina al fare un trading quasi come quando lo facciamo in demo, cercate di capirmi, ovvero quasi meno emotivo, perché senza emozioni non si può dire, quasi meno emotivo e quindi ci permette di raggiungere migliori risultati e inoltre sappiamo benissimo che purtroppo l'ho già detto in altri eventi il trading intraday soffre del tempo se noi non lasciamo il tempo alle posizioni di maturare un profitto o una perdita decente difficilmente in the long run nel lungo nella lunga corsa riusciremo a avere una profittabilità seria ecco perché quindi set and forget trading di posizione non mi piace Andrea un trading multi day di qualche giorno massimo qualche settimana sì aiuta a rinforzare il giusto approccio alle operazioni di trading perché? perché vedrete e questo non è che lo dico solo io io lo dico anche da tanti miei corsisti da miei studenti da trader che mi hanno seguito e mi seguono magari ancora oggi nel momento in cui si iniziano a notare dei risultati che non si erano mai visti rinforziamo una credenza positiva che è un giusto approccio che cioè rinforziamo quell'approccio e quindi ci permette di lavorare e continuare in quell'ottica lì Gianmarco dice tipo un swing trading assolutamente sì io lavoro di swing trovate anche forse qualche mio webinar che parla di questo qualche mio video ma ne parleremo anche in prossimi webinar e video quindi non state connessi poi andiamo avanti ci fa dormire la notte sembra una cavolata ragazzi ma io ci tengo a soffermare sempre pensa ho scritto il primo ebook professional trader tra il 2009 e il 2010 e uno dei capitoli si chiamava il titolo era il fattore 90% e lì parlavo proprio della nostra testa se noi siamo riposati tradiamo meglio perché se noi siamo riposati facciamo tutto meglio ragazzi voi provate a pensare a grossi imprenditori gente del business che deve il giorno successivo fare degli accordi importanti voi pensate che questi dormano due ore o siano poco riposati l'indomani no se noi abbiamo un approccio set and forget come vedrete che ci permette di avere tutto settato bene e di dimenticarci di riltura al trade perché sappiamo quanto è il nostro massimo rischio e in questo ci vengono molto utili turbo 24 che sto iniziando a utilizzare da qualche tempo e sono proprio perfetti per questo tipo di approccio noi la notte dormiamo purtroppo mi capita ancora qualcuno che mi chiama o mi manda delle mail e mi dice Ardu è il mio diminutivo io voglio approcciare il tuo metodo perché in effetti ho delle posizioni che non riesco più a gestire emotivamente addirittura la notte mi sveglio per vedere che cosa fa l'euro che cosa fa l'S&P 500 non può essere così non stiamo facendo allora un trader da professionista un trading da professionista un trading serio un trading che può portare profitto nel tempo io non sto parlando della scommessa della notte sulle elezioni americane perché quella non è trading io sto parlando di costanza di risultato che è quello a cui credo tutti dovremmo ambire quindi dormire la notte l'approccio set and forget ci fa dormire la notte ragazzi sembra simpatica la frase ma è la realtà e aiuta a migliorare la routine giornaliera voi provate a pensare se voi fate trading che voi lo facciate col metodo mio multiday con la price action lo facciate un po' più rapidamente quindi in intraday comunque dovete avere una routine in tutti i mestieri in tutti i lavori dovete avere una routine prendiamo esempio dei grandi sportivi i grandi sportivi raggiungono certi risultati perché continuano a ripetere una certa routine io ho una certa routine da seguire ogni giorno seguo una routine faccio sempre le stesse cose ogni mattina faccio la trading room con i miei iscritti poi guardo le mail faccio merenda faccio un po' di ginnastica mangio qualcosa dopo ritorno magari a guardare i grafici vedo un po' come sta andando magari 4 ore se sto seguendo qualche posizione la sera l'end of day il fine settimana faccio il mio piano operativo l'analisi operativa faccio un pdf che tra l'altro mando anche a tutti gli iscritti platinum quindi ho tutta una routine giornaliera settimanale che seguo e il fatto del set and forget approach cioè questo tipo di approccio ci permette di migliorare questa routine perché è tutto più lento io non opero sui 5 minuti quindi essendo tutto più lento mi permette di capire bene cosa sto facendo e di gestire i miei tempi non ho fretta e tra l'altro su questo mi piacerebbe farvi vedere una cosa che è stata fatta vi invito a vedere nel sito di IG nella parte delle strategie guardate vi prendo il sito a rodino schenato qui nella parte di IG c'è la mia parte dove sto scrivendo qualche articolo e se guardate guardate l'ultimo articolo vita da trader se ci andate dentro vedrete il video che è di quasi 6 minuti che vi fa vedere la mia giornata tipo diciamo e poi c'è tutto anche il test eccetera vi invito a vederla che è molto carino l'abbiamo fatto con IG ok poi rinforza la nostra sicurezza che va un pochino qui sul giusto approccio ma rinforza il nostro la nostra consapevolezza la nostra sicurezza nel modo di fare trading e voi potete ben capire che se io quando faccio trading sono sicuro di quello che sto facendo è molto più facile che nel tempo io raggiunga i risultati se io non sono sicuro come tutte le cose è facile che io entro in campo faccio la metafora con l'ambiente sportivo entro in campo non so realmente cosa fare quando mi passano la palla sono insicuro allora è più facile che io perdo quella palla se invece io sono sicuro delle mie azioni ho un piano operativo setto e dimentico eccolo lì sono sicuro di quello che sto facendo perché ho settato prima tutto eh? benissimo grande Gianmarco mi fa piacere che ti piaccia e poi questo set and forget trading ha anche dei benefici operativi e ovviamente qui vengo incontro a un po' più tutti anche se ricordatevi che l'approccio psicologico emotivo mindset è importantissimo noi in IR Forex lo curiamo da sempre negli ultimi anni addirittura con Antonio con mio collega che cura in modo ancora più approfondito questa parte ma siamo consapevoli che il mindset è importantissimo ricordatevi che nel trading ci sono queste tre grandi M che sono il metodo il money management e il mindset queste tre voci dobbiamo curarle al cento per cento tutte se qualcuno perde l'audio ricordo di uscire un attimo dal webinar e di rientrare perché può succedere le tre voci sono le tre M io le chiamo le tre M metodo Andrea money management mindset queste tre voci curate al cento per cento nel tempo ci vuole tempo per diventare trader ragazzi non ci vuole un giorno e neanche un mese quindi non focalizzatevi solo su le tecniche focalizzatevi su quelle sul piano sul money management il money management è fondamentale e va a braccetto con il mindset ok ecco che io quando cerco di darvi dei contributi in questi webinar cerco di dare sempre una visione a 360 gradi di questo di questo mondo del trading che è un bellissimo mondo ma si è affrontato in maniera seria e senza sogni senza falsi miti eh va bene quindi quali sono i benefici operativi di questo set and forget adesso vedremo alcuni alcuni esempi grafici di operazioni da set and forget eh allora prima prima cosa benefici operativi è che abbiamo pochi e alti time frame di analisi al di là di alti pochi io non vado a navigare in mezzo ai time frame e faccio un'operazione poi inizio a girarmi su tutti i time frame fin quando trovo un qualcosa che mi rassicura di quello che sto facendo vi ricorda qualcosa questo? vi succede? vi è mai successo? io una volta ho visto un trader che ha aperto un'operazione sul 4 ore poi dopo ho iniziato a guardare il 2 ore poi l'ora poi il 15 minuti poi è andato sul daily cercava delle conferme io non guardo tutti i time frame a me non me ne interessa niente io faccio la mia analisi importante sul weekly e poi opero sul daily boom non ho altro da fare quindi chiarezza operativa setto la mia posizione metto il mio stop adeguato so dove prendere profitto chiudo il grafico chiudo il monitor faccio altro set and forget se state davanti al monitor andate a reagire di emotività ragazzi e non fate risultato più accuratezza di informazione quello che dicevo prima se io guardo un grafico se io guardo un grafico weekly se guardo la volatilità gli swing i livelli di domanda offerta i macro trend dove li vedo un grafico weekly accuratezza di informazione i falsi movimenti al rialzo al ribasso se li guardo su un grafico a 15 minuti va bene ecco i 15 minuti sarà successo un qualcosa io non guardo le notizie io non guardo il calendario economico a me non me ne frega nulla che settimana scorsa c'erano le elezioni americane o ci sia il vaccino da un punto di vista di trading sto parlando poi mi posso anche interessare dell'economia americana mi piace benissimo mi informo ma a livello di trading chi se ne frega se ho tutte quelle informazioni là sono informazioni che mi deviano dalla giusta via quindi più accuratezza di informazione grafica non guardo un grafico a 5 minuti ok avanti trades ben pianificati come vedrete adesso in questi 3-4 esempi che facciamo sui grafici live trades ben pianificati set and forget pianifico il trade avendo un grafico settimanale daily io posso stare su una posizione prima di aprire un trade un'oretta la guardo la progetto vedo dove è meglio entrare vedo dove è meglio posizionare l'uscita in stop loss la perdita massima non pensate che io che faccio trading da tanti anni non ho posizioni in perdita io le ho le posizioni in perdita tutti i trader hanno le posizioni in perdita perché la perdita nel mio modo di fare trading è il costo è il costo operativo ragazzi perché noi siamo come dei commercianti d'altronde trader vuol dire commerciante in inglese quindi noi siamo dei commercianti quando andiamo a fare un'operazione progettare un bel business sul mercato un bel deal un trade allora quando io lo progetto con calma settimanale daily con calma capisco ok so che quel rischio che metterò quell'investimento che farò su quel trade sarà il mio massimo rischio sarà il mio massimo costo è un po' come dire sono un commerciante produco maglioni faccio fare i maglioni mi arrivano i maglioni li tengo in magazzino li ho pagati adesso quello per me è uno stop è accettazione di quel costo perché poi so che andrò fuori a rivenderli quindi quando io piazzo il mio progetto di trade quello che è il mio stop loss chiamato così un po' da tutti per me è il mio massimo costo quindi quando entro in posizione per me quel costo è quasi come se io l'avessi già pagato perché per me è il magazzino ok right ci siamo quindi pianifico bene il trade non faccio scommesse sul mercato ok io cerco di progettare ogni business seriamente ogni deal seriamente ok quindi guardo tutti i vari aspetti e il fatto di lavorare su time frame alti con l'approccio set and forget mi permette di fare questo migliore gestione dell'operazione in atto è ovvio che se io devo gestire un time frame veloce sono entrato su un 5 minuti un 15 minuti e questo parte di volatilità cioè la gestione operativa può diventare più frettolosa può diventare più emotiva se io guardo un grafico daily entro magari durante il giorno mi entra la posizione la riguardo la sera il mattino successivo con calma perché l'approccio è set and forget set e dimentico quindi la gestione non è emotiva è razionale ragazzi è razionale che è importantissimo c'è molta differenza nel fare un trading emotivo e un trading razionale questo approccio qui vi permette di avvicinarvi molto di più a un trading razionale meno emotivo accettazione del rischio ve l'ho appena detto dopo vi faccio vedere le email torniamo ai nostri grafici intanto qualche domanda c'è qualche domanda? vedo che siete tutti in ascolto mi fa molto piacere allora prendiamo un grafico adesso vado proprio oh bene vado liscio liscio qui allora allora intanto vi faccio vedere il grafico di stralina dollaro come potete vedere quelli che vedete qua sopra sono diciamo i mercati che trado un po' di più ok? io non ho una watch list ampia se vado su top markets guardate qua vedete? bene o male sono più o meno questi i mercati che faccio di più ok? quindi cercate questo va fuori anche dal topic di oggi ma ve lo dico sempre lo dico soprattutto per i nuovi perché mi fa piacere trasmettere il giusto messaggio non andate su tutti i mercati cercate di farvi una watch list di massimo 10 mercati e seguitela ok? bene sterlina allora intanto mi diceva Gianmarco tutto molto chiaro molto bene ci sono delle situazioni invece dice Vincenzo in cui il metodo imposta e dimentica non è indicato no no assolutamente zero no 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 Vincenzo ogni ogni trade imposta e dimentica ovviamente dimenticarsene non è che tu metti il trade e non lo guardi più per 20 giorni cioè ok? vuol dire imposti il trade e non stai tutto il giorno a guardare il telefonino o il monitor per vedere cosa ti fa il mercato ok? c'è una bella differenza va bene Vincenzo perfetto lo stop loss a quanto va impostato in percentuale dice Andrea allora vabbè qui dovremo fare una lezione di money management mi sembra tra l'altro che il prossimo mese sempre qui con IG abbiamo una lezione proprio un webinar dove se non ricordo male riguardava il money management comunque se non è il prossimo mese la faremo quindi non preoccuparti detto questo comunque direi che lo stop loss il rischio l'investimento da prendere è sempre molto personale esperienziale io ti posso dire la mia ma non è per forza che debba essere la tua Andrea il trading è molto soggettivo io anche i miei allievi a chi segue un po' le mie cose dico sempre prendete e poi fatevi un vestito su misura è ovvio che prendete il più che potete prendere poi magari su dei dettagli magari uno si può fare un pochino il suo vestito ok? non c'è nel trading una chiave che apre tutte le porte quindi per me se io ho 100 per fare trading tendo a rischiare per ogni trade circa l'1% di questi 100 ok? questo mi permette che cosa? di mantenere sempre un mindset pulito un'emotività pulita se io dovessi avere tre posizioni in perdita consecutive alla quarta non ho paura o problemi emotivi che non mi fanno performare non mi fanno operare sul mercato nello stesso modo è questo che devi pensare ok? rischiare sempre una piccola porzione del capitale che anche se dovessi avere più posizioni in perdita consecutive che può capitare non mi porti via non tanto il capitale soldi anche se è importantissimo ma soprattutto il capitale emotivo ve lo dico da trader molto importante questo andiamo a vedere allora un esempio nel settembre 2020 quindi qualche mese fa si è venuta a creare uno dei miei segnali operativi no? la Pinocchio Bar trovate un po' di cose nel mio nel mio nel mio canale YouTube anche nel nel canale di G fatti da me ma la Pinbar è il segnale che io trado di più questo è un po' ovviamente bisogna saperle leggere però mettiamo che adesso io qui non vi voglio non vi spiegherò il setup ma vi spiego l'approccio che abbiamo ok? si viene a creare una Pinbar in un'area chiave ok? eccola qua questa è una zona vedete che sul settimanale io guardando la big picture del mercato vedete a sinistra noterete che questo mercato in questa zona era un mercato dove c'era un'area dove lui era stato venduto era una zona di offerta ok? ci riva e proprio qui sul giornaliero mi crea una Pinbar in questo caso prendiamo questo esempio allora la strategia setta e dimentica che cosa dice? che io setto il trade e lo dimentico cercando di performare sempre in modo che la gestione anche della posizione non sia emotiva ma sia riguardo a quello che vi dice il prezzo allora senza parlare di estensioni eccetera non voglio oggi essere complicato però mettiamo che per ogni posizione io voglia avere un rapporto tra il costo del magazzino diciamo di quella merce e il mio possibile ricavo di 1 a 3 quindi vuol dire che il mio investimento è di 100 facciamo esempio e io voglia guadagnare 300 con ovviamente la gestione della posizione e quindi in questo caso specifico se faccio un bel trade da set and forget in questo caso decido di entrare direttamente sul breakout di questa Pinbar questo è proprio all'inizio vi ho fatto un cappello introduttivo che diceva entrerò nella parte più radicale e come dire come da principio del mio metodo ok ed eccolo qua breakout di questo di questo setup quindi quando il mercato rompe sotto decido di entrare short quindi ho praticamente uno stop loss un rischio in questo caso prendo il righello così si nota da qui fino a un po' più in alto del massimo quindi se voi andate a prendere il rischio è dello 0,97% di prezzo ovvero 130 pips sia con i turbo 24 che con i cfd posso decidere di prendere una parte di questo prendere qui e di andare a rischiare un x in euro quindi il mio investimento in quel caso diventa un x in euro mettiamo esempio di questo x in euro faccio sempre un esempio molto base siano 100 euro quindi questi 130 pips 0,97% di movimento valgono 100 euro ok 100 euro è il mio costo è il mio costo del magazzino è la merce cosa mi costa ragazzi va bene molto bene siccome io voglio guadagnare da questo trade all'incirca 300 euro dovrò andare a duplicare questo al ribasso no e quindi fare una cosa di questo tipo tanto per farvi capire duplica e duplica eccolo qua quindi il mio diciamo target profit quindi il punto di presa profitto diciamo diventa questa zona su questa zona come potete vedere io ho rischiato 100 e qui posso incassare 300 va bene molto bene sembra facile a dirsi in realtà non è così facile che cosa faccio se io faccio un trade set and forget vuol dire che non tocco la posizione non gestisco lo stop cioè gestisco lo stop solo nel momento in cui si creano in end of day cioè alla fine alla chiusura della candela daily un certo tipo di dinamica che potrebbe far riportare i prezzi nella direzione contro la mia posizione altrimenti la posizione rimane in modo set and forget quindi la lascio correre quindi se voi guardate il primo giorno viene eseguita la posizione mi ritorna circa a break even benissimo non faccio nulla ricordiamo che il mio stop dei 100 euro è qua sopra io sono entrato qui e qua ok benissimo il secondo giorno il prezzo scende benissimo guardate cosa succede il terzo giorno che sono all'interno di questo trade si crea una candela sempre pin bar contraria a questa pin bar quindi che cosa significa se dovesse il prezzo ripartire il rialzo e quindi sforare il massimo di questo io potrei avere un ritorno dei compratori in maniera chiara e quindi avere una posizione che va a stop detto questo non è un problema perché io potrei anche non cambiare il mio stop e la posizione può andare a stop tanto io comunque ho accettato prima il fatto che ho pagato la merce 100 euro anche prima di in realtà di pagarli non so se sono stato chiaro quindi nel momento in cui a fine giornata ecco set and forget durante il giorno i movimenti intraday perché c'è una notizia che esce perché c'è quell'altro che dice una cosa perché c'è la notizia sulla disoccupazione americana i tassi di interesse questo è quello chi se ne frega non lo guardiamo a fine giornata addirittura meglio il giorno successivo la mattina si va a vedere e mi ha fatto questa barra qui io quindi qui decido di andare a spostare il mio stop qui sopra poco sopra i massimi di questa barra 4-5 pip sopra se dovesse ritornare lì sopra uscirei dalla posizione quindi sempre set and forget sposto lo stop chiudo il grafico o analizzo altre cose quindi capisco razionalizzo cerco di capire che cosa è successo può ritornare su se spara lì potrebbe anche ritornare su quest'area poi tornare giù però non voglio perché il mercato mi ha già dato un movimento importante tra l'altro oltre 1 a 1 se voi andate a prendere oltre 1 a 1 quindi vado pam quindi oltre 100 su 100 recupero sposto lo stop qui nel caso in cui il mercato mi ritorna al rialzo a quel punto non andrò a perdere più nulla con i turbo basta inserire un ordine limite in realtà ok quindi fa così benissimo il mercato continua il giorno successivo lui rompe i minimi di questa barra aspettate che faccio un po' di pulizia ecco quindi io adesso ho lo stop qua quindi non perdo più nulla in realtà questi 100 non ci sono più magari sono a più 10 eh mi pago le spese ecco qua lui scende rompe i minimi benissimo non faccio nulla il mio obiettivo è qua lui scende di nuovo non faccio nulla il mio obiettivo è qua allora metti caso che questo la sera la notte durante la notte perché io comunque lo spostamento lo faccio il mattino presto se lui la notte mi prende il target yeah ho preso 300 ma se non dovesse essere così e lui riparte e mi ah no ma qui comunque mi piglia vabbè mi piglia mi prende 300 a posto comunque in questo caso se non avessi messo il target qui e l'avessi messo qua nel momento in cui ho questa barra che è un'ulteriore pin bar di ritorno possibile dei compratori io sposto questo stop che è qui lo metto sempre in maniera molto tranquilla e set and forget qui quindi lui mi prende qui va bene porto a casa quello che il mercato in quel momento mi dà su quel livello avete capito? Andrea dice sposti gli stop anche tutti i giorni dipende da quello che fa il mercato io lavoro di price action in base all'informazione che ho lavorando in questo modo come dicevo prima con il set and forget questo vi permette di essere più tranquilli cioè di non avere situazioni che vi arrivano in faccia a livello emotivo quindi movimenti rapidi che non riuscite a razionalizzare bene a ragionare a stare qualche tempo perché io magari qui ci ragiono mezz'oretta al mattino allora aspetta un attimo cosa faccio? se torna su potrebbe ritornare? faccio un po' le mie ragionamenti e modifico ok? quindi sempre molto ragionata la cosa non è un trading system automatico noi la mattina se volete ragazzi facciamo tante analisi facciamo tante cose e le facciamo ogni mattina appunto nella scuola platinum quindi nel sito YAR Forex trovate tutte le informazioni sulla scuola platinum no no io le modifiche Andrea le faccio sempre il giorno la mattina seguente solitamente la mattina tra le 8 e le 10 faccio le modifiche del caso la mattina sono più sono più riposato prima parlavamo di dormire la notte sono più riposato e essendo più riposato vado a migliorare il ragionamento no? sono più lucido Jeff Bezos dice che dopo le 17 del pomeriggio non prende mai appuntamenti importanti di lavoro che possa piacere o meno Jeff Bezos comunque non è proprio l'ultimo arrivato nel mondo del business perché? perché ovviamente sei stanco cioè la sera io vi faccio sempre il mio chart of the day il grafico del giorno però poi è il mattino seguente che ragionando capisco se in realtà vale la pena o meno fare un'azione ok? va bene facciamo un altro esempio poi facciamo anche un esempio proprio sul mercato attuale che ne dite? possiamo prendere un sacco di roba beh per esempio qua abbiamo la rien tra l'altro io questa posizione in realtà non l'ho fatta ma l'avevo impostata allora poi dopo l'ho tolta eccetera ma non vi spiego i motivi comunque guardate qua si era creata una pin bar sempre sul dollaro yen in un trend ribassista avevamo un settimanale di questo tipo avevamo un settimanale di questo tipo cioè avevamo tutta una situazione per cui il mercato era shorterello era in una tendenza short insomma si era venuta a creare questa questa pin bar eccola qui e quindi che cosa si poteva fare? allora poi tra l'altro inside bar successi vabbè adesso non sto a dirvi a livello tecnico tutta la cosa ma c'è questo segnale mio set and forget quindi anche qui prendo per farvi capire il mio eccolo qui allora entro short sotto il minimo sto sopra il massimo sono circa 60 pips ok? quindi se io volessi fare un 1 a 3 dovrei sempre fare la stessa cosa andiamo a prenderlo così così capiamo bene tutta la questione tac tac e tac ok? quindi significa che entro qui stop qui sempre 100 euro qui 100 euro il mio investimento il mio massimo rischio qui in questa zona qua è il mio 300 va bene? quindi facciamo così segniamolo un po' meglio ok qui è 300 qui entro così facciamo una roba facciamo così e tolgo via questi così almeno lo vediamo meglio ok? bene guardate qua che cosa succede allora il mercato in questo caso mi esegue qui riparte su quindi non fa nulla pa 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 allora mettiamo il caso che io stia seguendo in maniera col mio metodo set and forget benissimo alla prima barra boom boom seconda barra terza di movimento quarta metti in caso che qui non mi esegua e quindi avevo il mio target più ampio ecco che cosa faccio guardate qua sono entrato qui lo stop ce l'ho qui metti che il target ce l'avevo qui e non mi esegue mi fa questo ecco che questo è il primo segnale contrario questa è una pin bar contro dove quindi se io avevo il target e non mi esegue sposto il mio stop qui è ovvio anche che nel momento in cui mi avvicino molto al mio target posso spostare lo stop a zero dove non rischio più nulla quando è che sposto lo stop in maniera chiara quindi su come dire chiamiamolo così in trailing profit manuale quando lui mi fa uno swing con una candela di chiamiamola inversione o comunque possibile inversione magari poi non inverte come era successo prima sull'esempio che ho fatto su sterlina c'era quella roba là quella pin è andata su poi è andata giù ne avrebbe preso magari però non ha invertito in quel momento specifico però potrebbe farlo come è successo qui comunque anche se poi magari torna giù va bene però io devo capitalizzare il movimento di breve termine breve termine per me è qualche giorno massimo qualche settimana quindi qui devo capitalizzare questo movimento in questo caso capitalizzo un movimento con il trailing profit qua sopra se spara su sposto avete capito? ma potrei farvi vedere mille esempi mille mille esempi eh? guardate qua guardate questa anche qua guardate qui questa è una pin bar ftv un altro dei miei segnali molto chiaro anche qui se facciamo la stessa identica cosa eh? entriamo sempre qui con stop qui se io ho un target qui facciamo esempio e mi fa il primo segnale qui contrario io qui sposto il mio stop qui avete capito? quindi dobbiamo reagire in base a quello che ci dice il grafico a meno che il target non arrivi noi usiamo anche dei target di volatilità e delle estensioni di fibonacci sui segnali per avere dei target molto seri molto statistici anche ma non è questo l'argomento ma in un linea di massima comunque sono sempre target che almeno cercano un uno o due di il rapporto tra il mio costo e il mio ricavo però anche se abbiamo questo gestire la posizione con un movimento dello stop in base a quello che è il segnale chiamiamolo così che ci arriva dal grafico contrario sull'end of day quindi set and forget non è che io magari durante questa candela qua ragazzi questa candela verde magari su un grafico a time frame basso ti fa un'inversione se noi stiamo lì a guardare il grafico costantemente è facile che reagiamo di emotività e chiudiamo la posizione prima con il set and forget voi aprite la posizione al mattino e li riguardate alla sera e poi modificate la posizione al massimo il giorno successivo dopo che avete dormito avete capito bene Gianmarco dice non ho capito se lo stop va messo se si forma una nuova supple cosa vuol dire una nuova domanda e offerta oppure se dipende solamente dal segnale contro il nostro trade ma dipende se vado a target su un'area di offerta va benissimo ok ma non ho capito cosa vuol dire se lo stop va messo se si forma in una zona di domanda e offerta io lo stop lo metto tecnico lo metto sul mio segnale diciamo poi se ho se ho i turbo se non ho la possibilità di avere lo stop così vicino mi metto un alert magari metto un livello knockout più ampio e mi metto un alert qui se mi va sotto chiudo la posizione se ho un cfd metto direttamente lo stop lì ok molto bene quindi anche Raffaele penso di avere risposto avete capito quindi quindi il mio il mio diciamo oggi il mio intento era quello di farvi capire come con questo approccio si può migliorare notevolmente l'operatività andando a non essere presi e coinvolti da tutte quelle dinamiche che spesso portano i trader a non essere profittevoli ok questo allora vi invito quindi a guardare il canale youtube iarforex arduino schenato andate e iscrivetevi ok poi andare sul sito qui trovate un sacco di roba e se per qualsiasi cosa abbiate bisogno scrivete pure su info chiocciariarforex punto com o arduino punto schenato chiocciarforex punto com ok qui è l'amministrazione ma non è un problema ma è leonora è mia moglie oppure questo qua ok aspettate che ho fatto ok va bene che sono io spero che sia stato di interesse soprattutto di supporto nella vostra operatività noi ci teniamo davvero a far sì che le persone se ci seguono possano nel tempo ottenere risultati l'importante è che si diano il tempo ok in questo lavoro ragazzi troppo spesso riceviamo anche pubblicità un po' ingannevoli no ci vuole tempo 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 va bene ragazzi molto bene molto bene era un esempio Gabriele era un esempio di entrata entrata breakout delle pin che comunque necessitano il breakout è la convalida del segnale è l'entrata più classica delle pin bar poi dopo da lì puoi decidere se entrare direttamente a breakout entrare sul ritracciamento blind o entrare sul ritracciamento magari con una conferma daily o 4 ore come sai però l'entrata breakout è l'entrata più classica che quindi ho voluto fare un esempio di un'entrata più classica perché è la base come dicevo all'inizio è la base di tutto Salvatore chiede quanto tempo si può impiegare ad essere profittevoli quanto ho impiegato io allora io non faccio tanto testo posso dirti che vedendo un po' io è dal 2010 ragazzi che ho questo sito yearforex e quindi ho formato tantissimi trader ho conosciuto tantissime persone insieme a dg abbiamo fatto tantissimi tour in tutta italia in questi anni ho fatto tanti eventi in tutto veramente tutto lo stivale vi ho conosciuti in tanti alcuni appunto si sono formati con me eccetera eccetera e non c'è un tempo ok non c'è un tempo che sia oggettivo è come la tecnica no non c'è una tecnica diffidate da chi vi dice prendi la mia tecnica che non esiste ragazzi non esiste dobbiamo imparare quelle vanno a marchi lì del trading lasciatele stare dobbiamo imparare a ragionare sui grafici a crearsi un metodo avere passione cuore cervello eh cervello razionale e tanta tanta voglia di fare questo è c'è chi ci mette un anno c'è chi ci mette qualche anno c'è chi non ci riuscirà mai ok questo è va bene allora Gianmarco mi chiede quando è il webinar più vicino allora vi dico a tutti seguiteci se vi è piaciuto seguiteci dico a Gianmarco che mi chiede iscrivetevi ripeto sia al sito che al canale youtube perché abbiamo in serbo tra qualche giorno un mega evento tutto digitale quindi che lo seguite da casa che faremo a metà dicembre e nei prossimi giorni lo promuoveremo quindi state connessi perché sarà veramente una grande una gran cosa dedicato saranno due giornate una dedicata alla price action una dedicata al mindset quindi veramente una bomba seguiteci va bene bene ragazzi io a questo punto vi saluto vi ringrazio per questa bella compagnia che mi avete tenuto questa sera questa oretta vi auguro una buona cena se volete se avete voglia questa sera siamo live insieme a un amico sono live con Max il mio amico trader quindi sul mio canale youtube alle ore 21 tra due ore sono live sul mio canale youtube faremo una live di circa un'ora parleremo di trading se volete seguirci seguiteci di là e poi per tutte le altre cose insomma scrivete seguiteci va bene grande Davide grande grazie Alessandro grazie Gianmarco grazie Andrea grazie a tutti i presenti io vi saluto vi auguro buona cena intanto un saluto a tutti buon trading simple